tramite la gestione che può curare. Un ringraziamento vuole fare anche a Ivan Fai che ha aiutato la disponibilità delle sue strutture in modo che abbiano un punto d'appoggio dove poter passare le ore spenzierate per poter fare. Perché? Ero sindaco. Dico che come tutti sappiamo lo sport è legato alla cultura. Io in tredici anni che gestisco, ho gestito, diciamo, l'essere di Copertino, posso dire veramente a voce alta che il percorso preso da questi ragazzi è stato un utilizzo di vita giusto, sano, pulito. Gente che non è nata mai in ordine. E questo fa capire che il calcio è veramente vita e studiale. Anche poi, quanto riguarda la terra in ordine. Grazie. Grazie.